Sì, c'è una cosa su cui sono d'accordo da questo punto di vista. L'Inps, ho già detto un miliardo di volte, poi ci si stufa anche di dire sempre le stesse cose. Per esempio, mi sembrano 3 miliardi all'anno quelli che l'Inps paga per i dirigenti, per il buco del fondo dei dirigenti. E l'Inps si regge con i fondi, con gli attivi dei parasubordinati, che è una roba impressionante. Quindi, questo problema è un problema assolutamente reale. Però, diciamo anche, siccome è introdotto il problema di quota 100, quota 100 si sta rivelando poca cosa, 130 mila, no? Io sono uno di quelli che disse, beh, buono, io riconobbi che almeno dopo tanti anni che non si dava niente, quella cosa lì era già qualcosa. Però si sta rivelando, cioè si sta scoprendo che la gente non fa la domanda perché rischia di andare in pensione con pochi soldi. Perché questo mi sembra che si stia verificando. E questo è un problema grande come una casa che non mi sembra in cantiere la risoluzione. Per un'altra risoluzione, eh? Per un'altra risoluzione.